E' anche un'occasione per fare beneficenza. La rosa rossa dell'Aido è fiorita anche a Venafro. I volontari della locale associazione italiana Donatori Organi, con lo stand allestito lungo il corso, hanno offerto la possibilità dell'omaggio floreale alla mamma per la sua festa, in cambio di un'offerta destinata al sostegno delle iniziative della campagna Il Percorso del Sì, che promuove la donazione di organi. Donare organi, salvare una vita. Per avvicinare i cittadini alla tematica, le brochure e soprattutto la presenza dei volontari. E' per sensibilizzare un po' gli animi, perché abbiamo molti scritti per quanto riguarda le donazioni, però la mentalità è ancora un po' ristretta. Dovremmo crescere un po' di numero, perché è molto importante donare gli organi. Un'occasione per informarsi circa un gesto d'amore e solidarietà che ogni anno salva quasi 4.000 persone in Italia. Purtroppo circa il doppio restano in lista d'attesa per un trapianto a causa della indisponibilità di reni, polmoni, fegato, cuore. E dunque sul fronte dell'ampliamento della platea di donatori, molto resta ancora da fare. Iniziative come quella di Venafro contribuiscono a sensibilizzare le persone. Un dato, un donatore può dare nuova vita fino a 7 persone.